coltello da campo campmesser tedesco impugnatura in gomma antiscivolo parte superiore zigrinata lama intera per tutta la lunghezza della manicatura fino a sporgere sul retro dove ha un passante per inserire del cordino il cordino è già incluso la parte inferiore seghettata per tagliare corde cavi e tranciare qualunque cosa vogliate tagliare con velocità la parte superiore zigrinata ad ambedue le parti impugnatura ergonomica molto ben fatta il fodero è semplice con un bottone automatico per chiuderlo e un passante per la cintura ok 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 ok